ragazzi con questo Bologna ci fanno fatica molte squadre oggi la Lazio va al Dallara e trova un Bologna tosto tosto ma non lo scopriamo adesso che la squadra di Tecomorta comunque è una buona squadra finisce 0 a 0 ma se forse vado a contare le occasioni migliori forse Bologna poteva anche poteva sicuramente anche provarlo a vincere questa partita perché veramente ha avuto tante chance per poter fare gol la Lazio ne ha avuta qualcuna ma secondo me molte di più il Bologna quindi ai punti forse qualcosa in più il Bologna meritava però nel calcio si saltano la butti dentro alla fine poi 1 a 1 1 a 1 che muove la classifica per il Bologna sicuramente sì anche se l'Ulinese comunque oggi ha vinto quindi torna un po' sotto prepotentemente anche essa per la zona Conference League a Lazio a Lazio si tiene questo 1 a 1 che sta un po' di amaro perché l'Inter va comunque perso ieri comunque prende un punto sull'Inter aspettando poi Milan e Roma Atalanta persa sappiamo con il Napoli quindi si fa interessante si fa interessante oggi il Bologna gioca comunque senza Orsolini non c'è ancora Arnato dice che è in panchina ma non è subentrato quindi assenze pesanti per il Bologna per carità alla Lazio manca il bombercire immobile ma nel primo tempo ha avuto sicuramente due occasioni importanti Barro una al volo altra su parla traversa e l'altra dove poi provi a fare una buona parata sul suo palo ma è molto bravo a scendere velocemente e con la mano aperta a fare una bella parata ma quella più eclatante è sicuramente quella di Ferguson dove praticamente la palla arriva a Chiriacopoulos che mette questo pallone al dentro e Ferguson di testa completamente da solo sul secondo palo prende il palo perché prende il palo? perché Ferguson sceglie di non metterla sul secondo palo di tirare dritto per dritto secondo me se la mettiamo sul secondo palo a quest'ora avrebbe segnato ha beccato il palo sfortunato e entra da fare il Bologna ha questa creato e sono state azioni molto pericolose nel primo tempo la Lazio ha avuto qualche chance sicuramente sì mi ricordo il tiro di Pedro che col destro dentro la di rigore non prende la porta e la palla esce fuori esce fuori comunque da lato ma soprattutto alla doppia occasione della Lazio il filtrante di Minkovic-Savic per Luis Alberto che ha tu per tu con Skorufs Skorufski tira Skorufski fa una buona parata la palla va verso Felipe Anderson che a sua volta tira Skorufski reattiva e rialzarsi a fare un'altra bella parata quindi la doppia parata di Skorufski è fondamentale in questo caso dice di no due volte la Lazio una giro di pochi secondi e finisce così il primo tempo sullo 0-0 nel secondo tempo onestamente io a parte un tiro di Zaccagni dove tra l'altro è messo male col corpo la palla prende un call esterno male ed esce fuori io non mi ricordo tirare la Lazio sì faceva un gran processo palla muoveva bene la palla e tutto però azioni pericolose a parte quel tiro di Zaccagni io non me le ricordo veramente non me le ricordo invece il Bologna comunque ne ha avute ne ha avute sicuramente di situazioni interessanti soprattutto mi ricordo quella di Musa Barro da fuori aria questo tiro a giro forte è preciso dove la palla veramente esce fuori tanto tanto così dall'incrocio oppure inizio primo tempo dove c'è Chiriakopoulos che tira in diagonale e la palla anche lì esce fuori fuori poco dal palo cioè nel senso comunque il Bologna ha continuato a spingere fino all'ultima ha provato a cercare la vittoria non si accontentava neanche del pareggio il Bologna alla fine però la palla non è entrata 0-0 ripeto ai punti forse qualcosina in più il Bologna meritava però alla fine tu per quanto sei in casa pareggi contro una grande squadra come la Lazio che domenica scorsa quando era ha vinto comunque al Maradona contro il Napoli puoi anche comunque ritenerti soddisfatto secondo me la Lazio ripeto l'ho detto anche contro la Zed è questa un po' di scontinua come squadra anzi comunque messa comunque lo stesso bene in classifica sta facendo comunque secondo me un'ottima stagione Sarri perché alla fine 0-0 significa comunque ennesimo ennesimo clean sheet della stagione e quindi significa che comunque Sarri se c'era una cosa che doveva aggiustare che era la fase difensiva c'era tanti gol però poi ne subiva anche tanti quest'anno invece è una squadra che è molto molto quadrata lì dietro con Casale e Romagnoli messi lì a vigilare non passa quasi nulla poi c'è anche la procura di Provedel che molte volte comunque fa le sue parate importanti però è una squadra molto quadrata la Lazio cioè veramente non so non so quanti clean sheet abbia fatto Provedel in stagione ma sono veramente veramente tanti si parla veramente di tanti tanti clean sheet nel finale si prendono anche Medel con Felipe Anderson c'è Maresca che scivola in mezzo ai due giocatori che si stanno prima ad alzare le mani quella di una scena un po' buffa che mi ha fatto ridere però per il resto ripeto un partita comunque divertente nonostante lo 0-0 non mi sono annoiato nel senso le occasioni da una parte dall'altra ci sono state a mio avviso più del Bologna e sicuramente che così non più la squadra di Diego Morta meritava però questo è ragazzi 0-0 se il video vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate i commenti fatevi sapere un po' voi cosa ne è piaciuta appunto di questa partita qua tra Bologna e Lazio e Gittimo per la vostra questo nei commenti e soprattutto ragazzi anche se vi fa piacere iscrizione al canale che è fondamentale non costa nulla tanto basta che fate clic su iscriviti e se iscriviti se ne costa nulla mi superi che zero se la fatevi ringrazio di cuore condivete i video con i vostri iscriviti anche loro e attivate la campione notifiche così non vedete i prossimi video che usciranno link di decisione anche dalla barra di questo channel e link di decisione anche dal mio profilo twitter qui da me anche è tutto bella ciao ciao